Oggi facciamo la pizza sarda. È una pizza di verdure facilissima, perfetta per l'estate. Mamma mia! Per questa ricetta useremo cipolle, carote, pomodori e zucchine, ma potete usare tutte le verdure che preferite. Ora aggiungete farina di semola, olio di oliva e parmigiano e cuocete in forno per 40 minuti, o finché la vostra pizza sarà super sexy.